Ciao ragazzi, sono Williams Badura-Diaz, opposto il vero volo in Monza della Superlega di Palavolo. Sono qua oggi per lançarvi la sfida. In cosa consiste la sfida? Dovete indovinare quello che faccio io. Io farò tre imitazioni e voi dovete essere bravi a indovinare tutte e tre e dirmi chi è il giocatore, la persona, il personaggio che io imito. Chi riuscirà a vincere questa sfida verrà domenica a premiare l'MVP della partita nostra contro il Perugia. Grazie a tutti, vi aspettiamo. Grazie a tutti.